Per il ciclo Vive la France Il mio ruolo? Cyrano de Bergerac La trama qual è? Stiamo per creare un capolavoro Basta solo scriverlo È una ragazza romantica La devi far sognare Ogni vostra parola Qui dentro il cor mi viene Ora diamolo a pièce Cyrano Mon Amour Venerdì alle 20.55